Caffi Blitz. Raccomando vivamente la ditta di distribuzione per la sua precisione e gentilezza. Ordinato lunedì sera e l'ordine è arrivato questa mattina. Tutto perfetto. Grazie allo staff. Caffi Blitz. Ottimo caffè. Ragazzi simpatici e cortesi. Sono già due anni che andiamo da loro e torneremo anche quest'anno per gustare un ottimo caffè. Caffi Blitz Caffè per eccellenza. Unico e buonissimo sotto ogni forma. Dalle classiche compatibili per casa. Al grano per le caffeterie. Eccezionale servizio vendita a domicilio puntuali e gentili. Prezzi super ottimi per la qualità eccellente del caffè. Caffi Blitz. Ottimo caffè. Scegli la tua miscela preferita del caffè Borbone, rossa, blu, top oro. Provale tutte. Acquista caffè in grani Borbone tostato al miglior prezzo. In offerta da Caffi Blitz.